Iolanda Menella, l'ASA Napoli 3 Sud, promuove quattro giorni dedicate alle vaccinazioni degli studenti in vista appunto della riapertura delle scuole e dell'avvio del nuovo anno scolastico. Allora questa iniziativa nasce dalla volontà da parte mia del consigliere Carmine Gentile e dell'assessore Felice Gaglioni di poter incentivare sempre di più quella fascia d'età dai 12 ai 17 anni a fare il vaccino. Abbiamo pensato che questa iniziativa di quattro giornate del giovedì saranno tutte mirate dalle 8 del mattino alle 11 di sera dove i ragazzi si presenteranno senza prenotazione e verrà effettuato un vaccino. Alla fine ci sarà anche un sorteggio che verrà dato in omaggio un biglietto da poter poi presentarsi sul campo e quindi vedere la partita. Quindi questa iniziativa coinvolge anche i giocatori della Turris? Sì, con l'incontro anche con il presidente Colantonio che si è reso disponibile soprattutto perché questa iniziativa mi è piaciuta tanto ha voluto dare in omaggio questi 80 biglietti che verranno dato 20 per ogni serata e ci ha dato la possibilità anche della presenza dei giocatori che ci saranno in queste quattro serate. Ovviamente tutto si svolgerà come sempre nei locali della Santissima Trinità? Sì, tutto verrà effettuato sempre lì nel centro vaccinale dove i ragazzi, ripeto, speriamo che ne saranno tanti. Coloro che verranno senza prenotazione attendono la chiamata e poi faranno il vaccino. A tal fine oggi voi avete anche un incontro con i dirigenti scolastici? Ieri abbiamo fatto un incontro con tutti i preti delle varie parrocchie, anche loro presi da questa iniziativa si sono comunque attivati in rete ovviamente con la loro comunità e poi oggi abbiamo un incontro invece con i presidi degli istituti comprensivi ma anche quelli della scuola secondaria di secondo grado, pronti anche loro ad intervenire e fare in modo che questa iniziativa possa avere sempre più ampia adesione. Naturalmente tutti potranno scegliere liberamente se farlo o no. Ricordiamo che i docenti sono stati i primi a doversi vaccinare. Certo, anche io sono una docente, mi sono vaccinata. Il vaccino può essere l'unica soluzione, l'unico modo per poter uscire da questo tunnel e per questo chiediamo anche ai ragazzi, ovviamente senza obbligare nessuno, di poterlo effettuare perché è vero essere liberi però non ledere anche il contatto con altre persone che magari hanno aderito al vaccino.